Oggi su Accessione Smart avremo lei la nuova Renault Megane E-Tech che di Megane mantiene solo il nome perché prima parlavamo di una berlina, quest'oggi di un crossover 100% elettrico andremo alla ricerca di ogni singolo pregio e chi lo sa magari qualche piccolo difetto e deve partire subito dalle linee, specialmente quelle del frontale anteriore molto morbide ma che mantengono comunque un po' di grinta e un tocco un po' sportivo in un'unione tra una colorazione bianca e alcuni inserti neri con il nuovo logo Renault qui davanti molte telecamere e sensori nascosti perché gli ADAS di questa vettura arrivano fino a 26 quindi tanta sicurezza ma lo vedremo durante il corso della guida fari che sono molto settili, si vanno ad aprire qui sotto ovviamente full LED con indicatori di direzione che sono anche dinamici qui sotto una piccola parte di griglie con un piccolo gioco quasi a scacchiera sensori di parcheggio, baffetto ma vediamo il taglio laterale e prima di spostarci ragazzi una cosa fondamentale mi raccomando l'iscrizione al canale, il 90% di voi guarda i nostri video ma non si iscrive potreste farlo, perché? Perché è assolutamente gratuito e ci supporterete a portare dei contenuti sempre di qualità maggiore ma vediamo ebbene sì ragazzi 4 metri e 21 di lunghezza, 15 centimetri in meno della Renault Megane precedente questo perché è costruita sulla piattaforma CMF EV sviluppata in collaborazione tra Renault, Nissan e Mitsubishi quindi parliamo di un crossover ma comunque anche con un minimo di coupé perché possiamo notare la parte qui del tetto che va a abbassarsi leggermente e soprattutto una parte di maniglia nascosta qui, nera, come anche la parte dei vetri per mantenere una maggiore privacy ma soprattutto per mantenere un'unione tra il tetto qui e la parte bianca per dare uno stacco maggiore che dà sempre un tocco di sportività parlando di cerchioni, 18 pollici quelle di serie oppure i 20 come questi con il nuovo logo Renault è un bel gioco di trama tornando alle dimensioni, 1,77 di larghezza, 1,51 di altezza senza dimenticare un passo di 2,70 metri sarà abbastanza per lo spazio nell'abitacolo posteriore? ora lo scopriremo parlando quindi di abitacolo posteriore lo andiamo a notare subito come va a presentarsi bene il fatto che le portiere posteriori siano ben curate con anche la moquette ricordo che non c'è il tunnel centrale perché stiamo parlando di una vettura 100% elettrica sedile del guidatore impostato sulla mia altezza questo lo spazio per le gambe e questo invece per la testa ricordo che io essendo 1,70 m non vado a toccare se siete più alti potreste farlo anche perché il tetto essendo un po' spiovente qui andreste a sfiorare un po' con la testa una cosa che noto è il fatto che qui sotto essendoci il pacco batteria è un po' rialzato rispetto a una macchina normale e quindi le gambe non sono proprio in una posizione comoda ma bensì la parte dei piedi è un po' rialzata notiamo invece la presenza delle bocchette di aereazione con anche due prese per andare a ricaricare lo smartphone male l'assenza del bracciolo una vettura del genere sarebbe potuto servire ma bene il fatto che comunque renda comoda la seduta anche per i lunghi viaggi parlando invece qui del sedile del passeggero tutto tirato indietro io con la gamba vado a sbattere ma guardate quanto spazio c'è lì davanti quindi secondo me non ha molto senso tenerlo così tirato indietro ma ve lo faccio vedere lo stesso vado ovviamente a toccare quindi non è il caso di tenerlo così tirato bene la presenza del tetto nero ma rende tutto l'abitacolo un po' più cupo complice anche la presenza dei finestrini un pochettino sottili belli da vedere ma come vi dicevo nonostante l'abitacolo sia molto spazioso sembra esserlo un pochettino meno ma andiamo a parlare del taglio posteriore della nostra Renault Megane E-Tec e lo faccio partendo da una chicca guardate quanto è piccolo e stretto il lunotto posteriore ma qui dentro viene nascosta una cosa molto interessante che vi andrò a spoilerare durante il corso della guida altra cosa fondamentale è oscurato per mantenere la privacy ma soprattutto c'è anche un adesivo concessionaria messa che ringraziamo in descrizione tutte le loro informazioni e ragazzi cosa fondamentale sì noi collaboriamo con i concessionari e con le case madri ma siamo sinceri al 100% ed è per questo che su YouTube Italia siamo molto conosciuti ma tornando a parlare della nostra vettura un faro che viene unito qui al centro dal logo Renault ovviamente full led c'è una parte di sensori posta qui e anche nella parte laterale quindi una sicurezza attiva per la nostra vettura questa e tante altre chicche una cosa che non mi ha fatto impazzire è sicuramente il tastino dell'apertura del bagagliaio poteva essere secondo me nascosto meglio magari qua non essendoci la retrocamera visto che è nascosta qui tra l'altro retrocamera che va a ideare tutto quello che circonda la nostra vettura perché ne abbiamo una nel posteriore due sotto gli specchietti e una nella parte anteriore ma parlando di bagagliaio apertura che è manuale e andrà a rilevare all'incirca 440 litri che per il segmento della vettura vanno assolutamente bene non mi fa impazzire invece un discorso di piano di carico perché in questo caso è molto ribassato quindi se dobbiamo prendere delle borse dobbiamo un po' piegarci con la schiena e soprattutto per una vettura 100% elettrica che punta alla modernità al futuro e così via una luce gialla alogena storpia un pochettino parlando invece anche di doppio fondo ne abbiamo uno per andare a nascondere ad esempio quelli che sono i cavi di ricarica ci sono alcuni gancini secondo me il piano potrebbe anche essere rialzato in qualche modo andando invece ad abbattere i sedili andiamo a rilevare all'incirca 1300 litri di carico ma direi che ne abbiamo parlato abbastanza chiudiamo andiamo a guidare la sua strada Multisense eSport giù tutto il piede 0107,4 secondi velocità massima 160 km orari ovviamente auto limitata uno scatto sicuramente interessante forse ci si poteva aspettare qualcosina in più essendo una vettura full electric ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un crossover che è stato sviluppato sicuramente per offrire comfort prestazioni interessanti ma senza esagerare in questo caso 218 i cavalli a disposizione con 300 newton metri di coppia massima se invece non vi interessano questi numeri ma volete una guida relativamente più tranquilla c'è anche una versione meno costosa quindi più economica da 131 cavalli abbinata a una batteria da 40 kilowatt ora che ovviamente va a offrire meno autonomia rispetto a quella che stiamo utilizzando quest'oggi da 60 kilowatt ora parlando quindi di un comportamento questa vettura sa essere dinamica sa essere frizzante e divertente dare qualche strattone come in questo caso quando accelero giù tutto ma come vi dicevo senza esagerare perché sicuramente è divertente da guidare se la mettiamo in sport ancora di più ma se andiamo a metterla in curva a velocità un po' più alte sicuramente segue bene quella che è la linea segue bene quello che è il mio pensiero ma si va a notare un leggero sottosterzo come è giusto che sia perché comunque non dimentichiamoci che stiamo parlando di una vettura che a pieno carico va a superare le due tonnellate in primis e in secondo caso essendo un crossover dovrebbe avere un baricentro alto cosa che in realtà non è proprio così perché comunque avendo le batterie sul piano più basso vi permette di avere comunque la vettura un pochettino più assettata se così si può definire ma ovviamente non stiamo parlando di un assetto prima che qualcuno mi venga a fucilare nei commenti ma parliamo comunque delle sospensioni interessanti che riescono a offrire il giusto divertimento ma anche comfort MacPherson all'anteriore mentre al posteriore una tecnologia diversa parliamo dei bracci multipli stavo guardando prima che arrivava qualcuno anche se in realtà lei ha molta tecnologia quindi in realtà mi avrebbe potuto anche avvisare che qualcuno stava per arrivare in rotonda ma questa è un'altra storia torniamo a parlare quindi di sospensioni che come vi dicevo anche su Pave ragazzi mi hanno colpito veramente veramente tanto coprono molto molto bene le asperità stradali e che quindi riescono a offrire un giusto equilibrio parlando invece di comfort dal punto di vista acustico e visivo acustico silenzioso essendo una full electric frusci zero o veramente minimi non mi fa impazzire come vi ho già detto il lunotto posteriore che è così sottile quanto i fari praticamente no scherzi a parte non si vede molto e quindi Renault ha pensato a una cosa intelligente lo specchietto che può essere attivato e avere una retrocamera che va a proiettarci quello che viene dietro bello bello sulla carta poi sulla praticità non mi fa impazzire perché mi danno fastidio una parte di riflessi che arrivano direttamente sullo specchietto e poi non c'è quel senso di profondità che in realtà mi piacerebbe avere quindi questo specchietto promosso ma non ha pieni voti e quindi visto che vi stavo parlando anche di una minima parte di sicurezza essendoci anche i montanti abbastanza invadenti Renault ha deciso di metterne tanta di sicurezza e soprattutto di aiuti alla guida tra cui gli ADAS arrivano a essere oltre 26 ovviamente molti sono optional che vi danno ad esempio una frenata di emergenza assistita cruise control adattivo sensore dell'angolo cieco sia in movimento che anche ad esempio il retromarcio quando vado a aprire le portiere non sono per nulla invasivi sono assolutamente ben tarati non ho nulla da recriminare quindi sicuramente se volete sicurezza questa è la vettura giusta tra l'altro una cosa interessante degli ADAS è che possono essere subito rimossi direttamente o dai tastini qua ad esempio come il mantenitore di corsia oppure anche regolati dall'infotainment quindi una personalizzazione veramente interessante ovviamente poi una volta spenta la vettura e riaccesa andranno a rimettersi in automatico ma comunque è abbastanza semplice ad esempio andare a rimuovere subito il mantenitore che magari è quello un po' più odiato o comunque meno supportato o sopportato su tutte le vetture un'altra cosa interessante è un discorso ricarica questo perché in corrente alternata senza l'optional lei offre i 7 kilowatt veramente pochi mentre è un optional sempre in alternata la possibilità di avere i 22 kilowatt mi vedete andare all'indietro perché ho tirato giù una bella accelerazione 22 kilowatt sono veramente interessanti perché in circa tre ore andate a ricaricare la vostra vettura se invece avete la fast da oltre 130 kilowatt in poco tempo potete ricaricare anche in circa in 30-40 minuti un 80-100% ovviamente in questo caso mi vedete sono con un passo bello lungo ma posso anche spostarmi in altre modalità di guida tra cui la personalizzata o anche una semplice eco non mettetela mai mai non mettete eco perché provate a schiacciare e vi sembrerà di avere 60 cavalli quindi veramente non mettetela e soprattutto la cosa interessante di queste modalità di guida è il fatto che essendoci anche una versione personalizzabile che si può direttamente sistemare qui dall'infotainment possiamo gestirla un po' come vogliamo quindi posso gestire la durezza dello sterzo la risposta del motore e anche il comportamento dinamico della vettura che a proposito di comportamenti dinamici mi permette di parlarvi dello sterzo che è fatto bene è preciso ma una cosa che non mi piace è che ad esempio quando vado a girare un po' come adesso mi fa quel mezzo giro in più che in realtà io non richiedo ok e che quindi mi va a far dare una traiettoria leggermente differente da quella che magari mi potrei aspettare quindi un qualcosa del quale bisogna prendere abitudine perché come vi dicevo è preciso ma sicuramente poteva essere lavorata meglio quella che è la risposta del feedback e invece proprio come vi dicevo di agilità di questa macchina guardate appena io mi muovo è subito pronta a rispondere guardate la macchina è perfetta quindi veramente veramente ottima ma soprattutto mi permette anche di parlare di questo sterzo di due palette cui non servono per cambiare marcia essendo una full electric ma bensì per andare a aumentare o diminuire la frenata rigenerativa ebbene sì quando vado a rilasciare il piede dall'acceleratore lei va a perdere velocità per andare a inserire quello che potrebbe essere un freno motore e quindi ricaricare la batteria farci perdere un po' di chilometri e quasi quindi andare a simulare una guida one pedal cosa che in realtà in questo caso non è perché appunto non va ad arrestarsi al 100% a me piace mi piace anche il fatto che quando sto guidando in maniera sportiva anche se entra la rigenerativa non c'è assolutamente ritardo ok tra lo stacco della rigenerativa e della meccanica quindi ben fatta mi hanno tagliato la strada non ben fatta questa cosa ma sicuramente mi permette di dirvi che al posteriore ci sono dei freni a disco bene perché su alcune vetture magari vediamo i tamburi quindi ottimo ancora sicurezza maggiore ragazzi guardate 25% di batteria e 90 km di autonomia a disposizione ciò significa che con una ricarica piena avrei fatto all'incirca 360 km il dichiarato è circa 470 per questa versione da 60 kWh e negli ultimi 90 km ho avuto un consumo medio di 16.3 kWh ogni 100 km quindi comunque un dato che si si discosta ad esempio dal dichiarato del WLTP ma comunque guardate ho guidato in sport mi sono divertito parecchio ho aggiunto anche un po' di tangenziale barra autostrada dove il consumo medio è salito a 25 kWh ogni 100 km ma ad esempio se guidate normalmente magari accendete l'aria ma non sempre o comunque ci fate attenzione riuscite a portarvi a casa questa tipologia di consumo ma caliamoci all'interno della nostra Renault Megane E-Tech ovviamente le manie si aprono quando ci avviciniamo alla vettura essendoci l'ingresso keyless bene anche per un discorso di aerodinamicità perché quando siamo in movimento si vanno a richiudere sicuramente l'abitacolo si presenta veramente tanto tanto bene guardate anche qui che bella la parte in tessuto tutta grigia che va a richiamare anche i sedili anch'essi in tessuto con una parte in ecopelle e con anche le cuciture verdi richiamate sulle portiere insieme anche a una piccola parte di led qui che va a cambiare o in base alle nostre preferenze o alle modalità di guida molto ben curati quindi questi interni piccola pecca l'assenza in questo caso dei sedili che sono regolabili solamente manuali e non elettricamente bene ad esempio la presenza della moquette qui dà veramente un tocco premium cosa che non si vedeva in tante tante autovetture da molto tempo parlando invece di volante regolabile in altezza e in profondità molto bello da vedere esteticamente con il nuovo logo Renault e soprattutto con la parte a sinistra della regolazione degli ADAS a destra per muoverci all'interno dell'infotainment qui invece da parte di Multisense per cambiare le modalità di guida come possiamo notare fin da subito e notiamo anche la presenza di uno schermo da 12,3 pollici la qualità è veramente alta anche adesso che è arrivato un raggio di sole come potete vedere si vede in maniera molto nitida anche la parte qui di infotainment che va quasi a formare una L quindi come vi dicevo si vede bene ma soprattutto molto personalizzabile con tante viste tra cui anche quella di Google Maps tutto integrato qui con sempre la velocità e i consumi a disposizione e anche l'autonomia qui sotto o la modalità di guida che si sta utilizzando c'è Google Maps questo perché abbiamo Android Automotive che ci permette anche di avere altre applicazioni utilizzando il Play Store cosa molto utile il fatto che il sistema multimediale suona veramente bene con radio FM AM DAB e RDS qui sotto una parte di climatizzazione sdoppiata ovviamente e automatica non mi piace la parte di tastiera pianoforte per andare a regolarla ma comunque rimane sempre la barra qui sotto fissa che quindi ci permette di avere un rapido controllo cliccando sulla macchina si possono andare a modificare tante cose tra cui anche i vari settaggi delle modalità di guida qui sotto invece uno spazio per andare a ricaricare con la ricarica wireless lo smartphone altri piccoli ovani porta oggetti questo è veramente tanto in fondo praticamente io per arrivarci mi devo piegare quindi non proprio utile ma ottimo per nascondere le cose qui ad esempio un altro bracciolo che potete aprire ha un bel pozzetto per inserire altri oggetti andiamo a chiudere con la parte del porta documenti di dimensioni comunque modeste e vanno assolutamente bene e in una Milano sempre più calda per fortuna questa Megane Tec ha la pompa di calore che ottimizza l'autonomia in inverno ma soprattutto garantisce il comfort termico e ad esempio infatti io posso andare a impostare di voler trovare l'auto calda o fredda in base alle mie esigenze quindi quando entro qui trovo o un pinguino che mi saluta oppure un po' di calore che mi abbraccia condizioni di scarsa luce questo è il fascio della luce anabbaiante così abbaiante quindi bene anche la sera con la possibilità di averli anche automatici parlando di illuminazione lounge in questa colorazione rossa possiamo cambiarla in base anche alle modalità di guida vedete adesso è diventata blu ne approfitto per parlarvi della retrocamera che anche in condizioni di scarsa luce si vede bene la qualità è alta invece per quanto riguarda la parte di specchietto retrovisore la qualità non è altissima ma anche con poca luce comunque si riescono a vedere eventuali ingombri ma andiamo quindi a tirare le conclusioni finali su questa Megane E-Tec un'auto che ormai è uscita da un paio d'anni ma che rimane sempre affascinante ma soprattutto al passo con la tecnologia parliamo quindi di un allestimento tecno quindi un medio gamma che è anche quello che mi sento di consigliarvi maggiormente perché non è né il full né la base quindi è una giusta via di mezzo per avere abbastanza optional per renderla fruibile e comoda per tutti i giorni che viene venduta all'incirca 38.800 euro prezzo che si può abbassare con alcuni eco-incentivi quindi un qualcosa di veramente interessante ma se parliamo di una versione base 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 partiamo senza incentivi all'incirca dai 30.000 euro fino a superare i 47.000 per la versione full full optional dei prezzi assolutamente importanti non ve lo nascondo la tecnologia però è tanta e soprattutto parliamo di una full electric dove in un mondo quotidiano del 2024 i prezzi sono assolutamente alti 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 quindi lei è assolutamente in media dal punto di vista dei prezzi con le competitor fatemi sapere cosa ne pensate voi di lei di Renault e delle auto elettriche qui sotto ragazzi per me è fondamentale un commento anche un semplice fede sei bravissimo va perfetto per supportare il canale mi raccomando iscrivetevi il 90% di voi guarda i nostri video ma non si iscrive è gratuito ringrazio nuovamente il concessionario Messa del quale in descrizione troverete tutte le informazioni io sono il vostro Romino Federico e vi auguro una buona giornata e perché no al prossimo video sempre qui su Recensione Smart ciao